Ben trovati ad una nuova puntata di vai con liscio, anche questo mese proveremo a fare luce Dai riproviamo un attimo, magari è stato un errore, una cosa così Ben trovati ad una nuova puntata di vai con liscio, anche questo mese siamo pronti a fare luce No, allora, non è possibile, non è possibile Forse è meglio prendere e partire subito Cominciamo con... Ferretti Ferri Un tiro di coppa Costi Compagnoni e coppa Gomiero Ricciardi Gimelli Felicini Mele Billi Rocchi Zeppa Algeri Rocchi su Anut Ancora Ferri Di nuovo Ferretti Serafino Serafino Rogani Mancini L'Alza Valerio Carosi Gimelli 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 Di Marco Bellumori Bellumori Ancora Felicini Gimelli Attenzione Mbaiva in porta Bottone sbaglia e Perino la prende bene Ranzoni Ranzoni Panciocco Panciocco Sempre Ranzoni Randisi Marangon Marangon La batte di Fino Perin E Rogani Appetecchi Appetecchi su Felicini Laurato e Luciani Becchi E Sannino E chiudiamo con un commento di Giovanni Ziaco Su Rogani Insomma sta Sta pagando gli effetti di una settimana di non allenamento Non è stata sicuramente una partita brillante per Rogani Fino a questo momento Ma la porziale E' indovinato un po' chi ha deciso questa partita La palla per Rogani La tripla di Rogani Che bastegno Non sbaglia Simone Rogani Con lo spazio e disposizione Porta di nuovo Antirasta Mar90